When your eyes get heavy and your feet can't touch the ground Love will never let you down Love will never let you down Oh no Il carattere e l'impegno non si discutono Forse piccola involuzione rispetto alla prova di ieri contro la Serbia dal punto di vista del gioco Ci arrendiamo anche alla Norsega Sì, era l'ultima partita del girone Noi volevamo più che dimostrare a noi stessi Volevamo dimostrare a noi stessi che potevamo esprimere un bel gioco Anche contro avversari più forti di noi Ci siamo riusciti solo a sprazzi E adesso guardiamo al giro di consolazione Per decidere gli ultimi posti E ci impegneremo sempre fino in fondo Per provare a vincere almeno una partita E chiudere comunque almeno un pochino più positivamente questo problema